Ed eccoci qua signori ancora una volta su FIFA 17 nella modalità carriera allenatore con il nostro Ellas Verona oggi due partite importantissime, partita di terzo turno contro il Chiavari in Coppa Italia chi perde esce e poi dopo pochissimi giorni affronteremo l'Inter, vi ricordo che dopo queste due partite si riaprirà il calciomercato e abbiamo bisogno di un acquisto spettacolare come ala destra, adesso andiamo a fare la formazione visto che abbiamo davvero tanti giocatori infortunati, super mega turnover quest'oggi contro il Chiavari e rischiamo anche di uscire in porta c'è Leali, in difesa Supraen, Ranocchia, Elander e Pisano, a centrocampo Zucculini, Pirlo e Viviani in attacco Gomez, Ganz e Siligardi, i sostituti sono Lombardi, Caracciolo, Mattiello, Rolando, Greco, Luppi e Boacì non giocheranno Barzagli, Rodolfo Vera, Romulo, Pazzini, Sanchez e Di Francesco, sono infortunati formazione della squadra avversaria, eccola qui la formazione della squadra avversaria con in porta Iacobucci, se non ho letto male, gioca con un 4-4-2 stretto, centrocampo molto stretto vediamo se riusciamo a vincere. Tutto pronto? Iniziata! Attenzione al Chiavari che ci prova passaggio e tiro, meno male, centrale al quinto minuto, Leali, Parama è stato davvero molto fortunato, ancora Chiavari, attenzione, attenzione, ok, Ganz, palla al piede, fa una finta, prova a saltare l'avversario, non ci riesce ma guadagna una punizione, attenzione a Pirlo, attenzione a Pirlo, niente, ancora attenzione Zucculini, il tocco a Pirlo, attenzione Pirlo, Pirlo, palla deviata, calcio d'angolo, attenzione a Ranocchia che stacca di testa e fa gollo, attenzione, mamma mia, l'avevo chiamata, attenzione a Zucculini, Zucculini ci ha provato, niente da fare, abbiamo difficoltà contro questa squadra, immaginate, ok, bravissimo il tocco, attenzione, Siligardi, la parata del portiere, finisce il primo tempo sul risultato di 0 a 0, secondo me il problema è Ganz, non crea spazi e non riesce proprio a colpire di testa, ad inserirsi, secondo me verso il sessantesimo appena entrerà Boaci, cambierà la partita, attenzione alla punizione dal limite con Pirlo, che la prova a mettere in mezzo il portiere con i pugni, colpo di testa, ancora noi, ancora noi, il tocco a Zucculini, Zucculini per Pirlo, sbaglia il passaggio, la palla rimane lì, attenzione si gira, il tocco a Pirlo, Pirlo, che parata il portiere, che azione abbiamo fatto, non vuole arrivare il gol, attenzione, forza, così, che gol ha fatto, che gol ha fatto, attenzione, è l'under, non ci posso credere, secondo me è autorete, vediamo un po', no no no, grande gol di Elander, mamma mia, il primo gol nell'Ellas Verona, grande stacco, 1 a 0, mamma mia, Gomez ruba il pallone, Gomez ruba il pallone, ancora Gomez, si infila nell'area di rigore, la tocca a Pirlo, Pirlo, cerca di girarsi, ce la fa, Pirlo, no, non voglio giocatori espulsi, esce Gomez, entra Luppi, entra, entra Boaci, esce Gans, finta di Luppi, riesce a tenere il pallone, il tocco a Pirlo, attenzione che si gira, Pirlo, Pirlo, palla deviata, sfortunato oggi Pirlo, ogni tiro è una deviazione, benissimo, ok, il tocco, attenzione, si è infilato, si è infilato, annaggia Siligardi, Luppi tiene il pallone, riesce a toccare, attenzione, cerca di andare su Brian, su Brian si gira, vede Boaci, lo trova Boaci, subito per Pirlo, il passaggio non è ottimo, troppo lento, peccato, Boaci, dai, mamma mia Boaci, Luppi, Luppi, la mette in mezzo, colpo di testa, su Brian, la parata del portiere, e finisce, Lella Sverona porta a casa una vittoria su misura, e si qualifica, mamma mia, e ovviamente noi contro chi possiamo essere sorteggiati, agli ottavi contro la Juventus, ma ci sono tantissime squadre, giusto la Juventus. E dopo questa bruttissima notizia in Coppa Italia, adesso andiamoci a preparare questa partita di campionato contro l'Inter, che si trova in terza posizione con un solo punto di distacco dall'Ella Sverona. Siamo costretti a giocare con qualche giocatore stanco, perché abbiamo tanti infortuni, in Portaleali, Mattiello, Ranocchia, Barzagli e Vera, al centrocampo, Rolando, Greco e Romulo, in attacco Luppi, Pazzini e Gomez. I sostituti, Lombardi, Caracciolo, Pisano, Zuculini, Viviani, Sligardi e Boaci, non possono giocare questa partita, Pirlo perché è stanchissimo, Gans perché è davvero in questa partita inutile, e abbiamo Sanchez e Di Francesco infortunati. La miglior difesa, ovvero l'Ella Sverona contro il miglior attacco, ovvero l'Inter, che si schiera con un 4-2-3-1, attenzione in attacco C'è Icardi, iniziata, attenzione all'Inter, Ranocchia contro la sua ex squadra e fa già il primo grande intervento. Ranocchia rilupa il pallone, mamma mia! Jovetic, punizione per l'Inter, la palla scende, colpo di te, oh mio Dio, primo tiro della partita, una cacata, mi è arrivato, bene, 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 punizione dal limite, Rodolfo Vera, sì, la tira, Rodolfo Vera, Rodolfo Vera! Finisce questo primo tempo, l'Inter non ci sottovaluta, infatti ha tirato di più in porta, migliore giocatore di questi primi 45 minuti, Ranocchia, non so se vi farò vedere tutti gli interventi, ma davvero salvato nella sferona. Esce Luppi, entra Siligardi e poi sposto Gomez a sinistra, perché davvero Luppi, mamma mia! Vediamo un po', oh il tocco c'è, Siligardi, Siligardi, si gira ancora, Siligardi, il tocco a Pazzini, Pazzini, non ha fatto nulla, attenzione, bel tocco, mamma mia che azione avevamo costruito, incredibile, l'Inter riesce a difendere bene, attenzione all'Inter, Gioao Mario è partito, la mette in mezzo e butta in calcio d'angolo Romulo, bravo! Esce Greco, entra Viviani, ma abbiamo davvero tanti giocatori stanchi, e adesso esce Pazzini, entra Boacì, abbiamo finito le sostituzioni, ma avevamo bisogno di un'altra sostituzione, mettere Pisano per Rodolfo Vera. Ah, è calcio d'angolo, è stata una deviazione, pallone in mezzo, colpo di testa, una zero per l'Inter, Rodolfo Vera aveva quasi salvato questo gol, rivediamo, mette in mezzo, colpo di testa, Rodolfo Vera la tocca, ma la palla entra lo stesso, Nastasic, segna, bene, ok, toccala, bravo Boacì, bravo Boacì, attenzione, donna mia, quel maledettissimo Andanovic, niente, problemoni, problemoni, signori, problemoni, le ali ci salva, quasi 2-0 per l'Inter, ottantesimo, ci proviamo, ultime occasioni per Lellas Verona, se no arriva la prima sconfitta, attenzione, Rodolfo Vera la mette in mezzo Boacì, mannaggia, messa laterale, attenzione all'Inter, arrivata l'ammunizione a Viviani per un fallo davvero molto brutto, attenzione ai cardi, riesce a difendere il pallone, a toccarla il tiro, palla che scivola via, l'Inter ha fatto la partita, merita l'1-0 anche se ha segnato in modo fortunato, non so come ha visto il calcio d'angolo, ma è calcio d'angolo per l'Inter, pallone in mezzo, colpo di testa, attenzione, ancora a Lellas, il tocco a Rolando, dai Rolando, dai Rolando, si gira, il tocco a Boacì, Boacì tiene il pallone, fallo, fallo, si è infortunato, no no, dimmi di no, dimmi di no, punizione dal limite al recupero, Rodolfo Vera, chiama il secondo tiratore, chiama il terzo tiratore, e adesso arriverà una bomba assurda, il tocco, Viviani, Viviani, nooo, dai dai, Boacì, e fischia, e fischia, arriva la prima sconfitta per l'Ellas Verona contro l'Inter, una grande squadra che non ha fatto turnover, ha affrontato a viso aperto la nostra squadra e ci ha battuto, ecco qua, abbiamo perso anche la seconda posizione, le statistiche sono tutte per l'Inter, vittoria meritata anche se ha segnato in modo fortunato, e tra l'altro su colpo di testa, questi sono i risultati dell'anticipo della sedicesima giornata di campionato, l'Ellas porta a casa la prima sconfitta, il Bologna perde in casa contro l'Empoli 2-1, il Bari perde contro l'Atalanta, ma davvero la classifica è davvero qualcosa di spettacolare, andiamola a vedere insieme, c'è assurda questa classifica, il Napoli ha perso, quindi se vincevamo eravamo in prima posizione insieme, ovviamente, alla squadra napoletana, l'Inter adesso si avvicina, la Juventus ci scavalca, si avvicina anche il Genoa, nuova rivelazione del campionato, cerca di recuperare i punti persi il Milan, la Lazio e la Roma davvero un campionato inguardabile anche così per la Fiorentina, attualmente in Serie B Chievo Verona, Torino e Frosinone ragazzi, se questa puntata vi è piaciuta mettete tanti bei pollicioni in su, ma nella prossima puntata si aprirà il calciomercato e affronteremo il Chievo Verona e poi il Napoli e poi avremo la Juventus in Coppa Italia, oh mio Dio, io vi do un bacione grandissimo e ciao a tutti da PierreDarkNight91 Quella è buona, il caffè attualmente non ci interessa perché nessuno beve caffè attualmente, ci sono personaggi che bevono caffè e quindi hanno bisogno invece di fumare e di bere caffè per tirarsi su di morale, quindi bene